Non posso dire niente, l'ho sentito ieri sera alla Sagra di San Giovanni questa notizia. Girava a voce? Sì, 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 le prime voci. Mi dispiace perché Marco, siccome sono disabile, di conseguenza comporta, che aiuta le piacere i disabili, sono messo abbastanza male, mi dispiace veramente che si diventa Marco. Perché lei dice che è una persona che aiuta molto attenta alle questioni della disabilità. La disabilità, lei vuole bene una persona che ha problemi. Non sapevo neanche che si aveva dimesso, ho sentito un attimo ieri sera, do parole e basta, non so altro niente. Non so le cause, non so i motivi, per cui non so dirle. Quindi non aveva di Marco? Eh, buona, decisamente buona. Forse ero un po' nell'aria perché un po' di malcontento c'era, però si è stata molto inaspettata. E a questo punto Castelfranco può permettersi di rimanere senza sindaco? Diciamo che probabilmente non è neanche stato molto presente negli ultimi tempi, cioè non si è sentita molto la sua presenza.